Ok ragazzi, mi sto avvicinando al QG dell'autorità. Ci siamo. Vorrò fine a tutto questo una volta per tutte. Sei qui? Ti consiglio di usare il Predator. Le torrette dell'autorità friccioleranno qualsiasi altro veicolo tu decida di usare. Certo, lo so. Volevo solo vedere se eravate attenti. Decisamente c'era un modo migliore. Ecco. Per farlo non me ne sono fregato altamente. Bella mina sta cagata. Ok, ne ho distrutto uno. È bello che ho finito le munizioni, cazzo. Ho modificato la pistola. Oh, lei è andato. Ci stiamo. Ok, il trucchetto del Predator sta funzionando. Le torrette non sparano. Ah, bene. C'è una piattaforma di fronte all'ingresso principale. Sali e lasciati. Quattro ore faccia la sua parte. Attenere l'attenzione. Ecco perché non potete andare avanti. Volker, non temere. Il disturbatore si risponderà e incarnerà lo scanner. Scansione fallita. Come ho detto ha funzionato. Ha disturbato la scansione A. Procedura di sicurezza Delta avviata. Presentare conferma DNA. Del DNA. Credevo che aveste pensato a tutto. Presentare conferma DNA. Livello di atleta in aumento. Dottore, ci sei? Ah, certo. Ho preparato un modello digitale perfetto del DNA di Cross. Sto trasferendo i dati ora. Analisi del DNA completata. Bentornato, generale Cross. C'è mancato poco. Non avevi pensato a simulare questo scenario, Kvadir? Oh no. Ma è andato tutto bene. Ora la macchina è... Ok, sono dentro. Fa piano. Puoi farcela. Forse Walker avrà bisogno di rinforzi. Tranquilla Lily, non mandare tutta l'aria. La situazione è sotto controllo. Non ci servono altre vittime. Vittime? Wittime? Questa è la sua! All avanti! Wtf? Ups. Sei resistente come un virus. Ups. Inutile mammoletta. Mammoletta. È incredibile che tu abbia fatto tutta questa strada. Non avrai certo pensato che l'accesso di un secondo generale Cross nella mia base passasse inosservato. Fanculo, zombie! Che potentissima sta roba. Porca troia. Non me lo spettavo fosse così impotente. Porca merda anche io. Arrivo, merdone. Su, ciao. Go, go, go. No, è potentissimo. Questa roba libera tutta la mappa. Il problema è che si sta per rompere. Ok. Ok. Fugio. Luba. Fuori dai coglioni. Sono il mio avuto. Oddio, ma non credo che il gioco sta già finendo, no? Abbiamo fatto tre missioni in croce. Oh, c'è. Sono bloccato, porca puttana! Eh, cosa di scena da... ...me la spasso. Vabbè. che erano proiettili cazzo oh shit pezzo di merda vola si vabbè dove sto cadendo? c'è ah mi manca il mitra mi mancano le manzioni del mitra tutto cos'era questo? coglione ah se li supera? cioè se li supera lo si può fare mi hanno rotto un po' il coglione addio vi ho sempre odiato eh dammi subito che c'è una lezione oh oh quello che tu e i tuoi assunti non riuscite a capire anche l'umanità ha fatto il suo darmo ci sono quasi ci sono quasi Molto sapiens Deci di male Deci di male Yeah Ma cagheggio C'è un cazzo Quanti sono ancora a rompere i coglioni Munisce Minchia voglio le munisce per il mio mitra Cazzo è sta roba Ah una scensora Bisogna dover premere tutti i due Tu non sei neanche l'unghietta di Zieta Prowley Pezzi di merda Eccolo qua Showtime Ah è pezzo di merda Cosa cazzo vuoi fare Caglione Ette Con la moda di tappo piano Dove non vedete più Lo so Sto che non mi senti più io Tutta la sua mamma Dove ti ha voluto l'ultimo Oh è bello il volo che fa Ci siamo Me la sento Oh si Oh yeah Non c'è niente Tutto Con munizioni di fucili a pompa Ma il mitra Due cassette in croce Che roto di peggio Conserverò anche te Come ricordo Di tra i miei trofei Guardate che ci impiegheremo Più arrivare da lui Che a ucciderlo Ucciderlo due secondi Oh benissimo Oh benissimo C'è il pieno di munizioni Per un motivo Lo dico io Non c'ho scontro Eccolo la stronza Ma vedi come ti spolpo Figlio della merda Cioè non è lui Credo Stiamo entrando in una nuova era Un'era di purezza Disciplina Versanza La tua morte Ne segnerà l'inizio Sì Tantastica Qui io muore Allora Ok Qui il bel topolino No No Non mi sparo Non fai attento Allora Un altro Non è lui Questo Guarda No Non è lui Oggi Sommario Volevi schiacciare L'obiettivo Perché Con gli tiri Sto cercando di aspettare Se vuoi venire Allora vieni Altrimenti arrenditi alle mie sentinelle E lascia che ti ammazzino con un cane Quali sentinelle? Arrivo Da dove si passa? Ah da qui Eh ma Più vicino Amorita Più vicino Non vedo l'ora di schiacciarti con le mie mani L'unica cosa che mi puoi schiacciare è il brufalo che ho nel culo Mi stai dirti molto utile Pezzo di merda Stavolta ti uccido Per sempre Oh Gesù Cristo E' questa merda? Ecco Che bella bestiodina che è Fine Ok Questa mossa è tua O ti brauni Lo fa boing Di nuovo Dai chiedi da me Ok Due Altro punto debole Poi lo sarà Più rilassato di così Pinchio The fuck That's the merda Ha 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 Vabbè manca uno Vabbè manca anche l'armata Branca leone Muori Ah che bello come vuole Veramente che si sconda No Questa è un campione di tutti Mi sta mandando No Porca troia Minchia Mi avevano buttato giù sti stronzi Cioè l'ho caduto io di sotto come un idiota Ok Ok andato Smoing e mo? No Sì lontana Pucciame Sono le cose che a Dio mi mancheranno dell'umanità Ecco qua Tutti pronti? Stronzo Questa è una cosa più furba Questa è una cosa più furba Sì ma sta cazzo di granata non fa nulla Sono uno scherzo della natura Pirla Andato Vabbè Prego testina di merda Dov'è il tuo ultimo? Il punto debole Non ci sono Non vedo nulla Qui cibo Si Poi esce a capire che non ha quel senso La tua vendita è soltanto una perdita di tempo. Mi vendicherò quando voglio. Cosa? Cosa? Che cacchio da la roba? Che cosa hai fatto? Lascia perdere. La scienza somministrata da un inutile mammoletto. Il virus sarà nutriti. È stato il dottor Kvazir a mandarti a somministrarlo, sapendo che avrebbe sicuramente ucciso anche te. Allora raggiungeremo l'ultima insieme. Inutile mammoletto. Resta con me, Walker. Arrivo. Coraggio. Non te ne andare, Walker. Continua a respirare. Respira. Lily. Lily. Walker. Walker. Sono qui, fratello. Ah. È finito così? Ma... 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 Io non ho saltato missioni, eh. Ce li ho fatte una dietro l'altra. Sapevo che era corto. Ma così corto? Dio del cielo. Cazzo, notate quanto? Una decina di missioni, più o meno. Minchia, che... 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 Strano, cazzo. È finito troppo presto. Non me l'aspettavo. Vabbè, ragazzi, questo è il finale di Rage 2. Spero vi sia piaciuto. E noi ci ritroveremo a fare un'altra serie, probabilmente horror. E... Sono stupito da tutto ciò, sinceramente. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo finisse così in fretta. Però per quel poco che è durato mi è piaciuto. Io probabilmente ora mi divertirò a... A farmi le missioni secondarie, cazzate così. Giusto per platinarlo. Non so quanto mi ci vorrà platinarlo. Ma ci proverò. Ragazzi, grazie a tutti per aver seguito questa serie. E noi... Ci vediamo la prossima. Non credo ci siano filmati dopo. Nel dubbio. Ah, ci sono. Visto? Sapevo che se la sarebbe cavata. È un piccolo cocktail di nanotriti per riposare. programmare era quello che serviva. Lo sai? Ti è andata bene. Ma... Ma se io sono in grado di salvare Walker, forse è probabile che qualcun altro possa farlo anche con Cross. Avrete bisogno di me. Gambe, andiamo. Ah, rieccoti. Forte come solo i ranger sanno esserlo. La daga ha funzionato alla perfezione. Niente più cloni di Cross di cui preoccuparci. O almeno credo... Peccato che ti abbiamo quasi perso. Kvasir ti ha fatto rischiare la vita. Il siero usato per uccidere Cross poteva far morire anche te. Per fortuna è riuscito a invertire il processo quando Lily ti ha portato dentro. È andata bene anche a lui. Lily stava per far saltare quel suo cervello per sempre. Quando ti riprenderai ci sarà lavoro per te, ranger di Wineland. Ma per adesso riposati ancora un po'. Walker... Non serve che tu parli. Ora ci sono qua io. Quando ti rimetterai avremo un sacco di lavoro da fare, ranger. Tutto ciò è estremamente bizzarro per me. Va in fretta, ranger. Ma fa che? Scusa. Vedete, non ci sono missioni. Cioè, prima era sempre in alto a sinistra. Adesso c'è. Tutto c'è è fenomenale per me, raga. Finito. Questo è il finale di Rage 2. Io mi divertirò a a farmi ste robe. A sbloccare i progetti. A cazzeggiare nel mondo di gioco. Ed è tutto qui. Ragazzi, grazie a tutti per aver seguito la serie e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.